I ragazzi della palla nuoto sono pronti a rituffarsi in acqua per il campionato 2012-2013 di serie A2 maschile. Anche quest'anno, infatti, tra le 24 squadre in competizione ci saranno i ragazzi della Roma Visnova, la società capitolina pronta al debutto casalingo sabato 19 gennaio. Dopo aver centrato l'obiettivo dei play-off promozione, la squadra si è presentata con un roster rinnovato, affidato al nuovo tecnico Bruno Cuffino, 59 anni, napoletano Doc. Senza raccontarci chiacchiere con i piedi per terra, noi siamo una squadra in condizioni di fare un ottimo campionato così come siamo in condizioni di fare un pessimo campionato. Dipende dall'approccio mentale e dalla costanza che metteremo nel lavoro quotidiano e anche bicotidiano che ogni tanto svolgiamo. Una squadra giovane, come noi siamo, deve buttare nelle partite tutta la freschezza atletica di cui una squadra giovane può disporre. Contemporaneamente dobbiamo cercare di essere, diciamo così, esplosivi e vitali come una squadra giovane e ragionatori come una squadra di anziani. Nello staff tecnico è entrato anche il noto ex portiere Daniele Ruffelli. Tra i nuovi giocatori invece spiccano i nomi di Claudio Innocenzi, Davide Rumiti e Simone Pappacena, pronti a farsi notare nel debutto di sabato al Foro Italico contro il Basilicata 2000. La squadra è sicuramente una squadra da collaudare ancora, però abbiamo visto che dai primi tornei abbiamo avuto subito un impatto positivo. Positivo perché Bruno sta facendo un ottimo lavoro. La preparazione è stata una preparazione lunga. Gli obiettivi sono obiettivi, come lui ha spiegato prima, a medio termine. Nel senso, il progetto è un progetto buono, valido, però con delle speranze, degli obiettivi anche più recenti. I play-off sono senz'altro il nostro primo obiettivo, la promozione non ancora secondo me, perché rispetto ad altre squadre abbiamo bisogno di tempo. Una squadra che vuole far bene partendo dalla cultura che la contraddistingue, quella del sacrificio della professionalità, una società sportiva che anche in un momento di crisi mette in campo ogni mezzo per rimanere ad alti livelli. Purtroppo la situazione del paese dà altre priorità e quindi alle aziende in crisi non possono permettersi certamente di dare contributi allo sport. Noi abbiamo fatto un altro tipo di politica, stiamo finanziando al 50% l'attività della società attraverso le scuole pallannuoto, di cui Bruno Cofino è direttore, 150 bambini che fanno pallannuoto che hanno meno di 10 anni, di 11 anni, attraverso lo stage che è un altro evento importantissimo, lo stage estivo al Centro Federale di Ostia, il Water Polo Lion Stage, attraverso l'organizzazione di eventi, insomma attività parallele che servono alla gestione degli impianti, della piscina che servono a dare, a finanziare e ovviamente autofinanziare l'attività agonistica.